La Francia di Richelieu Enrico IV, il primo della dinastia di Borbone, riuscì a restaurare le condizioni del suo regno, devastato da decenni di guerre civili. Convertendosi al cattolicesimo, si fece accettare da quasi tutti come re di Francia. Con l'edito di Nantes garantì agli ugonotti la tolleranza religiosa e con la politica economica del ministro Sully ristabilì le basi economiche del suo regno. Non tutti erano soddisfatti e l'attentato di un monaco cattolico fanatico pose fine al suo governo. Al suo posto successa il figlio Luigi XIII. Da questo momento tutti i re francesi, fino all'Ottocento, si chiameranno Luigi. Maggiore importanza rispetto ai sovrani, ricoprirono però in questo momento due primi ministri. Il cardinale Richelieu, che governò dal 1624 al 1642. E il cardinale Mazzarino, che governò dal 1643 al 1661. Richelieu ebbe un ruolo molto importante, perché sul piano interno impose un regime compiutamente assolutista, riformando inoltre il sistema fiscale e l'esercito. Sul piano internazionale riuscì ad evitare, ad impegnare la Francia nella guerra dei Trent'anni, almeno fino a quando la Spagna fu così logorata da poterla abbattere nella battaglia di Roncroy, ponendo fine alla sua egemonia. Assolutismo voleva dire in quel momento combattere i privilegi della nobiltà, sia quella ugorotta sia quella cattolica. La prima tendeva a comportarsi come uno stato nello stato, la seconda era sempre più infastidita dall'importanza dei magistrati che avevano acquistato le loro cariche, e si comportavano come una nuova nobiltà, la nobiltà di toga o d'ufficio. Richelieu agì anche contro i protestanti di Hugonotti, assediando e conquistando le fortezze che avevano mantenuto con l'editto di Nantes. Particolarmente duro fu l'assedio della città di Rochelle, che, aiutata dagli inglesi, resistette per un anno. Sconfitti sul campo, gli Hugonotti ottennero però la conferma delle clausole dell'editto di Nantes. Fu emanato un nuovo editto, chiamato Editto di Grazia, e così gli Hugonotti accettarono la sconfitta. A questo punto Richelieu si sentì abbastanza saldo da iniziare una politica estera di potenza, che però era anche costosa. Per affrontare le spese che la guerra comportava, Richelieu decise di riformare il sistema amministrativo francese, creando gli intendenti. Questi erano dei funzionari stipendiati, che rappresentavano il governo in ogni singola provincia, garantendo l'immediata applicazione delle decisioni del governo e del re. C'erano intendenti di giustizia, di finanza e di polizia. Essi erano tutti di origine borghese, e le loro cariche non erano messe in vendita, come molte altre, in modo da essere sempre revocabili a volontà del re. Con questo nuovo e più efficiente sistema amministrativo, la Francia poteva riformare l'esercito, e anche creare una flotta da guerra, con cui affrontare l'insieme dei conflitti, che fu chiamato Guerra dei Trent'anni. Il tutto non fu indolore. La nobiltà di Spada, quella antica e aristocratica, ordì numerose congiure, e alcuni nobili vennero per questo motivo decapitati. L'opposizione della nobiltà di Toga e del clero fu affrontata dal cardinale con maggiore duttilità. Anche i contadini si opposero al fiscalismo, sempre più duro, con rivolte senza speranza. Nel 1642, Richelieu e Luigi XIII morirono quasi contemporaneamente. La corona passò a Luigi XIV, che però aveva solo cinque anni, e fu posto sotto la tutela della madre, che nominò ministro un collaboratore di Richelieu, l'italiano Giulio Mazzarino. Mazzarino continuò le guerre di Richelieu e la sua politica di accentramento, ma dovette affrontare l'opposizione di quasi tutti i ceti della Francia. La nobiltà di Spada, che non voleva perdere il suo potere. Quella nuova di Toga, che odiava gli intendenti. Il popolo di Parigi e i contadini, affammati dalla carestia e spogliati dagli agenti del fisco. Gli oppositori dell'assolutismo, però, non erano solidali fra loro. I vecchi nobili sognavano un ritorno al vecchio feudalesimo. I borghesi avevano paura di loro, come pure dei popolani e dei contadini. Così, mettendo gli uni contro gli altri e sfruttando la vittoria nella guerra dei Trent'anni, Mazzarino riuscì a vincere la guerra civile, che prese il nome di un gioco per bambini, la Fronda. Con questo nome, da allora, si intende un'opposizione che non è intenzionata ad abbattere il regime che pure contesta. Grazie alle vittorie militari, la Francia di Mazzarino potè esercitare un'egemonia sull'Europa occidentale. Il regime, nato dalle riforme di Sully, di Richelieu e di Mazzarino, fu compiutamente assolutista e divenne un modello per tutte le monarchie europee, tranne l'Inghilterra. Nel 1661, Mazzarino morì. Il re aveva solo 23 anni, ma aveva un carattere già molto forte e decise di governare da solo, senza un primo ministro. Iniziava l'epoca di Luigi XIV, il re a sole.